Allora, Innovation Factory nasce a Lecce, il capofila è Officine Cantelmo, l'area in cui intendo operare è quella delle comunità digitali, creative e inclusive. Il percorso di Factory nasce in realtà dalla condivisione da quanto già operato sul territorio, da Officine Cantelmo e The Cube, e abbiamo provato a estendere un po' il network territoriale che includeva già alcuni partner che erano geolocalizzati all'interno dello stesso immobile, come per esempio l'ITS Turismo. Tra i partner, quindi, abbiamo sia, diciamo, su 16 partner, 9 di questi sono in Puglia, tra cui WIP, PMI, Sistema ITS, altri 7 invece sono da altre regioni, e tra questi, appunto, Gellify, Link Campus University e tutti gli attori che compongono rete mediterranea che sono rappresentati da Godesk, acceleratore della Basilicata, Coworking Sa, che si occupa invece di avviamento di impresa a Salerno, e Innesta, che si occupa di un incubatore di impresa nella città di Messina. Insieme, diciamo, questa rete prende già degli attori che collaboravano prima, diciamo, su progetti attivi già prima dell'esistenza del factory, quindi per noi è stata anche una misura molto importante per metterci in gioco con il supporto della regione. Tutti i partner, con tutta una short bio, è disponibile sul sito, che riporto, diciamo, come innovationfactory.com. Tra gli esperti abbiamo un nucleo direttivo che è un management board composto da otto persone, parità di genere, quattro maschietti, quattro femminucce. In più, diciamo, oltre al management board, che è il compito di identificare e definire il PDA, abbiamo una rete di circa 68 esperti che stiamo pian piano andando a integrare anche in base a delle esigenze specifiche dei team che stiamo identificando in questa fase di screening. Il 54, quindi, sono i mentor e i coach a disposizione dei team che entrano all'interno del percorso. 6, invece, sono i coordinatori di servizi. Tra i servizi, The Cube.o e Officine Cantermo gestiscono già due aree, due spazi di co-working, uno sull'ECC e su Brindisi. Le attività, diciamo, previste all'interno del factory sono anche i servizi di coaching, networking, talent scouting. Ci occupiamo già di finanza agevolata e forniamo l'accesso anche a dei laboratori sia diretti, diciamo, nel caso del Fab Lab presso Brindisi, ma anche, diciamo, indiretti che possono essere dei laboratori che si trovano presso partner o università, centri di ricerca. Mettiamo a disposizione, abbiamo previsto all'interno del percorso, un demo day e ci occupiamo poi noi stessi dello scale-up delle aziende, avendo già, diciamo, sottoscritto e lavorato con Cassa Depositi e Prestiti quest'anno e avendo aiutato già quattro start-up ad ottenere, diciamo, dei finanziamenti importanti. Come gestiamo i percorsi di candidatura? Questo, diciamo, è un gant più o meno che ci serve a tenere tracce di dove siamo e dove vogliamo andare. Abbiamo lanciato, diciamo, noi operiamo prevalentemente con delle call con delle call e quindi facciamo due batch di selezione durante il corso dell'anno in modo tale da partire con gruppi di lavoro più o meno nello stesso, diciamo, nello stesso istante. Quindi abbiamo fatto una prima call nel periodo, diciamo, di settembre-ottobre dell'anno scorso e questi cinque team sono stati selezionati da D'Arti. Abbiamo completato lo screening la settimana scorsa e stiamo già lavorando sui loro PDA, quindi presumibilmente il percorso di formazione, il percorso di accompagnamento potrà iniziare fra un mese e due e quindi, diciamo, l'idea di concludere il primo ciclo è prevista tra, diciamo, è previsto per gennaio, dicembre-gennaio di quest'anno. In contemporanea abbiamo avviato una seconda call in questo periodo che si dovrà concludere al 30 di aprile e da lì in poi ci saranno poi i mesi di valutazione, di fattibilità, insomma, delle proposte presentate per poi riprendere il percorso. Nello specifico, ok, ho capito il problema, nello specifico, nelle due sessioni che abbiamo fatto, ad oggi abbiamo nel nostro deal flow cinque team in fase di sviluppo del PDA e, diciamo, dall'open call che è ancora attiva e sarà attiva fino al 31 aprile, abbiamo praticamente già quattro team che hanno espresso interesse a partecipare al programma e iscriversi al percorso presso la nostra factory. Ad oggi, quindi, ci sono più o meno un 42 giorni e una ventina di ore per potersi candidare e, diciamo, la domanda di candidatura, nel nostro caso, noi stiamo facendo una fase di accompagnamento e supporto e quindi, diciamo, per chiunque fosse interessato può scrivere o può inviare la domanda di candidatura al sito innovationfactory.com. Ho finito e passo la parola.